Ciao a tutti ragazzi, io sono il vostro Epiroxo e bentornati in un nuovissimo video di FNAF R Infatti oggi, dopo qualche giorno, un po' di tempo forse che non lo portavo Forse una settimana E siamo di nuovo qui E vi scuso per l'attesa E oggi, dato che non entro qui da due settimane ormai Dato che io registro i video ogni due settimane Infatti escono lunedì, mercoledì, venerdì E perché ragazzi con i tempi, per colpa degli studi e tutto Non riesco tanto a registrare, quindi faccio una volta ogni due settimane Che comunque ho anche delle linee potenti Una volta ogni due settimane, quindi faccio così E direi però di non perderci in parole E combattere subito l'animatronico, ho visto che c'è, oltre a Jetpack Balloon Boy, altri animatroni Tra l'altro da un po' di tempo Allora, io proverei tipo Con System Error Bonnie, vai Si parte gasati Allora, lanciamo un po' il volume, ok? E dove sei? Carissimo amico, qua Qua, qua, eccoti Ok, eccolo qua, iniziamo Allora Che dove sei? Ok Dai Piccolo infame Ok Ok Ok, sei di qua Dai Ok Ok, perfetto Ecco di qua Dai Dai Forza Eh no, ragazzo, no, è niente Troppa agitazione, non l'ho vista in tempo Eh, cavoli Eh, vabbè, dai Ok Non sono più tanto allenato Allora, adesso Io, ragazzi, ormai vado sempre se lo riesco E tanto Ho i vostri animatroni Non serve che me li inviate Tanto non mi arrivano più Mi arrivano sempre Eh, i bonni Tutti buggati E quindi Eh, ormai Cioè, non Non serve più Combattere i vostri animatroni Mi dispiace Perché so che è una cosa che vi piaceva Allora Qui devo inviare anche gli animatroni Che Li invierò Subito Trenta minuti Ok Cerca Trenta minuti Ok Poi qua Eh, vabbè Localizzare i ricompensi Lo farò io E Usiamo un'altra esca Adesso Vediamo Chica Baby Mangol Jetpack Balloon Boy Dai che Eh Sono quelli nuovi Ecco Allora Eccoti qua Che bello Che bello che sei Sarebbe bello Averti Al primo colpo Anche se non è Possibile Ui Hello Hello Ah ok There Hello Hello Dai Ok sei qua Hai Dove sei? No piccolo infame Ok ecco qui Ecco qui qua Ok Dai Eccoti Ok ecco qua Ok Dove sei ogni volta? Ecco qua ok Dai Eccoti qua Oh finalmente Abbiamo sconfitto Ballon Boy Che tra l'altro non mi ha fatto neanche una volta il glitch ed è una cosa buonissima Allora Sferiamo dai Tag paloncini E niente E vabbè dai Ci sta ci sta ci sta Allora Comunque ragazzi adesso Siamo comunque al 99esimo episodio mi sembra E quindi wow Sono quasi C'è 99esimo episodio video Quindi siamo quasi al centesimo video del canale E che dire il centesimo video non so se fare uno speciale Oppure qualcos'altro non so adesso vedrò Ma comunque Allora Adesso c'era lui Eccolo qua Il nostro Toi freddi Tutto Tipo 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 Corrivalora E forse mi prendo anche batterie extra Ma si dai Così Tanto ragazzi Avete capito Le batterie Le Fatscoins non servono a prendere i matroni o cose del genere Ma Per le batterie che servono tantissimo Allora Eccolo qui Tra l'altro figo Veramente figo E si va Allora Ok dove sei però adesso Dove cavolo sei Ecco qua Ok Le interferenze non me le ricordavo così potenti Ok Ok No No ok No Ti prego ti prego ti prego no Ti prego ti prego ti prego no Grazie Dove sei? Eccoti qua Ok Ok perfetto Dai Eccoti qua Ok Dai Eccoti qui Di nuovo Ok Dai Mamma mia ragazzi che infarto Non sapete Non sapete Non sapete Eccolo Eccolo bastardo Eccolo bastardo Volevi fregarmi Mamma mia ragazzi che infarto Questa è stato Questa è stata brutta Questa è stata brutta Non ci ho capito niente Ma ce l'abbiamo fatta stranamente E va bene così Allora Skin No Niente skin Ok niente skin Che bello E' un po' E' un po' di tempo Che non Travo skin Questa cosa è Un po' Fa un po' Dristezza Ma vabbè Allora Ora vediamo che altre Esca abbiamo qua Abbiamo sprint Ma ho capito Ma ho capito che non sono Ancora pronto per lui Quindi Lasciamo stare Viar tui freddi Facciamo Vediamo un po' Ma si dai Oggi si fa di Toi e Balloon boy Allora Eccolo qui Dai Su Ok Eccoci qua Allora Si voglio essere tanto Tu amico Però non mi devi uccidere Ehm No Brutto bastardo Eccoti qua Eccoti qua Ok Ti ho Ti ho Ok Oh Oh Pazzo Psicopatico Pazzo Brutto pisello Ok Eccoti qua No Non voglio fare Hide and Seek Now Non Non mi interessa Ok 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 Dove sei Prima che mi corri addosso Ok Eccoti qua Eccoti qua Ok Dai Eccoti qua Ok Ok Eccoti qua Eccoti qua Dai 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 Eccoti qua Ok ragazzi Ce l'abbiamo fatta Abbiamo battuto pure lui Perfetto Perfetto Ce l'abbiamo fatta Adesso Ovviamente non abbiamo trovato niente Che bello Niente Niente Non abbiamo trovato letteralmente niente Io Non so se provarci un'altra volta Ci proviamo un'altra volta? Ma si dai 13 minuti di video Non faranno male Ehm Qua Eccolo Ok Perfetto E si va Ciao Michetto Ok Let's go Allora Fa bello Dove Ma Di cavolo sei Ah ecco Ok Ok Allora Un consiglio che vi do ragazzi Non avere mai Il Il Dito Diciamo Sul Sul flash Ma Sempre Sulla maschera Perché Vi appare da un momento all'altro a caso Il Dito In In generale Allora Ecco di qua Ho già finito Un'altra Batteria Ecco di qua Ok 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 Perfetto Ecco di qui Dai 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 Bravo Ecco di qua Dai hai rotto le scatole Ok sei di qua dai Si ok ok Ecco di qua Ok perfetto Baccio un'altra volta Questa volta Questa volta però me lo dovete aver dato Io mi arrabbio Dai Dai Eh niente ma Ma porca miseria ma Non è possibile Adesso lo combattiamo un'altra volta Perché Non me ne frega niente Io devo avere quel Freddy Storto Quindi Lo proviamo a sconfiggere un'ultima volta Se non ce la facciamo Male Se ce la facciamo bene Allora Dove sei Eccoti qua Ti ho visto Perfetto Tac E ci andiamo veloci veloci Allora Sì no non me ne frega niente I due parti Pisellosi Allora Ecco tu qua Eccolo qui ok Dai 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 Muoviti Ok Eh Non volevi eh Wow Cos'era Ok ragazzi Mi si è bagato tutto per un attimo Non ci ho capito niente Ma va benissimo Allora Però Tu Ti devi ancora Una calmata E qui C'è qualcosa che non va Perché avevo Dove Non mi sei ricaricato No E niente Ma porca miseria Ma Che sfortuna Vabbè Eh vabbè dai No mi Mi avete bagato le batterie Ah no ok Ce ne ho ancora Beh ragazzi Io direi che per questo video È tutto Che Tanto che sfortuna Che non abbiamo trovato Neanche Una skin Di tutti E i tizi Che abbiamo Sconfitto oggi Ma che dire Ce ne faremo Una ragione Come ho detto prima Per oggi è tutto Spero che il video Vi sia piaciuto E ci vediamo La prossima volta Con un altro video Ciao